Ciao amici di Altamura, lo so, vedete questo qua in tuta e dite, ma chi è? Sono uno dei portafoggi del Movimento 5 Stelle, sono Giuseppe D'Ambrosio e sono qui presente oggi in piazza per aiutare quella che è la lista civiltà del Movimento 5 Stelle ad Altamura. Ad Altamura ci siamo, ad Altamura stiamo tentando di mettere dei cittadini all'interno del Consiglio Comunale per arrivare a quella che è la trasparenza, arrivare a quello che è il ponte tra i cittadini e il Consiglio Comunale, quello che non avete, quello che non avete mai e allora la mia richiesta è, cosa avete ancora da perdere? Lo so, probabilmente noi non abbiamo niente da promettere, però in realtà vi promettiamo un futuro, questa è la vera promessa nostra, vi promettiamo qualcosa in avanti, qualcosa di totalmente trasparente e non di ricordarci di voi soltanto nei 5 anni come vedete adesso lo stanno facendo. Qui ci sono dei candidati di Altamura, c'è il candidato del Sindaco, ci sono altri candidati alle regionali, però io vi voglio ricordare semplicemente una cosa, volete vendere il vostro voto, magari addirittura manifestandolo, presentandovi come la presentante di vista, vendendovi a promesse, prendendo buoni soldi, in realtà quella roba ne va del vostro futuro, anche perché adesso prendo dei soldi, adesso prendo una promessa, ma poi le tasse, la vostra salute ne risentiranno, lo avete visto? E allora io mi chiedo davvero, Altamura vuole ancora piegarsi a queste logiche? vuole ancora vendersi il proprio futuro? Se non vuole vendersi, ci sono persone oneste, oneste che mettono a disposizione la loro onestà, la loro vita proprio per questo. Io vi dico guardate che non è facile, guardate che per noi non c'è niente da guadagnarci, andate a vedere le mie foto prima di entrare in Parlamento e vedrete che mi sono veramente rottamato in quel maledetto Parlamento perché c'è gente cattiva nelle istituzioni italiane, gente che porta il veleno nei confronti delle istituzioni italiane. Noi vogliamo veramente far cambiare questo, non cambiare verso come dice Mento a terzi che è l'anagramma di Mattorelli, noi vogliamo fare qualcosa di diverso. Se volete veramente fare qualcosa di diverso, guardate qui, c'è Pietro Massi, Movimento 5 Stelle Altamura, avete veramente una persona, adesso lo sentirete parlare e vi chiedo da voi. Grazie Giuseppe, questo è il video che facciamo a tutti i cittadini di Altamura, datici questa possibilità, abbiamo sbagliato fino ad ora, non abbiamo più possibilità di errore, il voto è segreto, ricordatevi, il voto quando è segreto è libero, libero come le nostre mani, non abbiamo legami con nessuno, nessun partito, nessun potenzato politico e con noi. Datici questa possibilità, metteteci alla prova, siamo ragazzi, abbiamo tanta volontà, tanta onestà, ma soprattutto la parola coerenza che è mancata fino ad oggi. Grazie, ciao Altamura!